Decine e decine di colleghi, a partire dagli agenti della Polizia Stradale di Grotta Minarda e Benevento, poi quelli della Questura Sannita dove Gino Voccola, 51 anni, vice ispettore della squadra mobile, prestava servizio da alcuni anni, e la famiglia distrutta dal dolore. Tanta l'incredulità negli occhi di chi questa mattina ha partecipato ai funerali del poliziotto morto per Covid dopo che per un mese e mezzo ha lottato nell'azienda ospedaliera San Pio. Una giornata triste per tutti, a partire dalla Polizia di Stato con il questore in testa che ha partecipato, con il prefetto ed altre autorità, all'ultimo saluto a Gino. L'ennesima vittima di un virus folle, come più volte è stato denominato il Covid. Un virus contro il quale giorno dopo giorno però le autorità sanitarie combattono, anche e soprattutto grazie alle vaccinazioni, che nel samnio procedono comunque in maniera spedita. Oggi si è raggiunta la metà del personale che lavora nelle scuole, come ha sottolineato il numero uno dell'asola di Benevento. Allora, per quanto riguarda il personale scolastico, vi dicevo che sono state vaccinate stamattina alle 9 più di 3.000 persone, su un totale di 6.000 che hanno aderito. Per quanto riguarda invece il personale oltre 80enne, abbiamo sospeso nei due o tre giorni successivi. Ieri sono arrivate le confezioni Pfizer, il problema adesso è che dobbiamo iniziare le seconde dosi, quindi adesso valuteremo proprio in giornata, farò un'unità di crisi interna all'azienda, nel quale faremo il programma nei prossimi giorni, cautelandoci logicamente sulle seconde dosi e continuando anche gli ultrottantenni.